30 dicembre 2002 Emergenza sull'isola di Stromboli Un terremoto ha fatto staccare due grosse parti rocciose che compongono la sciara del fuoco L'enorme quantità di roccia precipitata in mare causa un'onda anomala Era da tre giorni che il vulcano Stromboli aveva iniziato a manifestare una forte attività eruttiva Prima viene evacuata la frazione di Ginostra poi, il giorno seguente, l'intera isola